buongiorno e ben ritrovati a tutti da raffaella oggi lavoriamo un progettino molto trendy protagonista di questo tutorial è il filato lana soffice maxi di tre sfere filati è un prodotto made in italy lane di biella per cui un quid in più per questo meraviglioso filato è 50 pura lana e 50 per cento acrilico dralon per un gomitolo da 50 grammi per 75 metri io ho scelto un colore 31 ghiaccio e per questo progetto vi occorreranno due gomitoli di questo fantastico filato oltre al filato che posizioniamo qui ci occorreranno le nostre forbici il nostro immancabile centimetro un ago da lana con la corona larga e la punta spuntata un marker e un uncinetto numero 6 io ho scelto questo ergonomico sempre in vendita da tre sfere filati e ora passiamo al tutorial ed eccoci pronti per affrontare il nostro tutorial per realizzare il balaclava io l'ho appoggiato calzato su una testina in polistirolo calcolate che la circonferenza della testina di polistirolo è più o meno 55 56 centimetri di diametro per cui una misura abbastanza reale che equivale alla maggioranza di noi se doveste avere necessità di ampliare la lavorazione perché avete una circonferenza superiore a quella che io vi indico non farete nient'altro che aumentare qualche giro aspettate che ve lo metto bene sotto così vedete qualche giro all'inizio così che avete una maggior larghezza sul nostro balaclava vero è che la lana comunque cede e sicuramente quel centimetro in più che magari avete di necessità sicuramente indossando più volte il balaclava si allarga e di conseguenza secondo me non è poi nemmeno tanto necessario aumentare le maglie bene allora come procederemo prima lavoreremo così ve lo faccio vedere meglio ok sulla calotta ok ecco così che si vede meglio dovete avere pazienza perché sotto la camera del telefono si va un pochino di fatica per cui una volta realizzata la calotta andremo a lavorare in giri di andate e ritorno nella parte posteriore per arrivare poi a chiudere per formare l'oblò e poi andremo a realizzare il nostro bordino sottostante per rifinire del tutto e per avere appunto l'agio ok di calzare per bene il nostro balaclava e ovviamente andare anche a inserirlo opla così ci vediamo a inserirlo magari nel nel cappotto o fare un pochino da collo ovviamente e poi altra cosa che non vi avevo detto spero che si veda bene rifiniremo poi il nostro balaclava a maglia bassissima ora senza troppi indugi passiamo effettivamente a quello che è il nostro tutorial uncinetto numero 6 e filato maxi soffice di 3 sfere filati con il nostro filato maxi soffice andiamo a togliere la nostra etichetta andiamo a estrarre il filo dall'interno del gomitolo a me di solito succede di toglierne sempre cinque metri comunque va bene cominciamo uncinetto numero 6 e formiamo il nostro cerchio magico allora io vado a lavorarlo su due dita perché per me è sufficiente incrocio il filo due tre dita è abbastanza incrocio il filo prendo il filo da sotto lo porto fuori filo sull'uncinetto e realizzo una catenella che ovviamente non viene contata nel computo dei nostri punti ora filo sull'uncinetto rientro nel cerchio magico estraggo il filo ricarico il filo sull'uncinetto e chiudo tutti gli anelli che ho sull'uncinetto appunto formando una mezza maglia alta ne realizzerò altre cinque sempre all'interno del cerchio magico per cui dovrebbero essere e devono essere un totale di sei mezze maglie alte realizzate due proseguo con la terza la quarta la quinta no ho tirato il filo non va bene per cui rifaccio la quinta e la sesta sei mezzi tiro un attimo il filo così vi mostro meglio sei mezze maglie alte all'interno adesso tiro il nostro filo chiudo il cerchio magico rimetto l'asola in sospeso sul nostro uncinetto e chiudo il giro con una maglia bassissima entrando nella prima mezza maglia alta carico il filo estraggo e chiudo i giri andranno sempre chiusi con una maglia bassissima sulla prima maglia del giro ok adesso lavoro una catenella che mi servirà semplicemente per alzare il lavoro e vado a raddoppiare le nostre maglie per cui lavorerò due mezze maglie alte nella maglia sottostante in questa maniera entro estraggo carico e chiudo rifaccio la stessa cosa procedo poi ovviamente sulle altre cinque a lavorare due mezze maglie alte appunto nella maglia sottostante ci vediamo alla fine del giro così proseguiamo insieme ora chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta e chiudiamo così secondo giro ora dovremo andare a inserire ancora degli aumenti perché dobbiamo fare crescere la calottina per chi come me ha un debole per gli amigurumi la tecnica sarà quella comunque adesso piano piano la vediamo insieme ovviamente sarà quella degli aumenti regolari andiamo a lavorare una catenella sempre per alzare il nostro lavoro lavoriamo una mezza maglia alta e andiamo ad inserire l'aumento nella maglia successiva per cui andiamo realizzare due mezze maglie alte nella maglia di base e abbiamo inserito così il primo nostro aumento proseguiamo sempre con una mezza maglia alta e l'aumento chiudiamo il giro sempre con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo lavorato e nel giro successivo che sarà il quarto andremo a lavorare due mezze maglie alte e poi l'aumento ok adesso io finisco questo vi impostiamo insieme il quarto giro dopodiché dovete continuare con questa tecnica fino a raggiungere la nostra calotta vi do poi il numero di giri corretto e misuriamo poi insieme al termine ok dei nostro della nostra formazione della calotta finisco questo ci vediamo per il prossimo giro e lo lavoreremo insieme ancora terminato il terzo giro andiamo a impostare ora nuovamente un altro giro di aumenti per cui sempre la nostra catenella per alzare il lavoro filo sull'uncinetto lavoriamo una mezza maglia alta nella maglia sottostante una seconda dopodiché inizieremo con l'aumento eccolo qua come vedete gli aumenti sono lavorati sempre regolarmente dove abbiamo posizionato l'aumento del giro precedente spero si veda bene ok vedete sotto ci sono gli aumenti per cui andiamo sempre a lavorare lì ora io finisco il giro vado avanti con la mia calotta una volta che sono arrivata alla misura corretta mi fermo e vi dico il numero di giri che ho lavorato vati all'ultimo giro di aumenti per cui sempre una catenella siamo esattamente al decimo giro infatti contiamo velocemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 siamo al decimo giro e lavoriamo la prima mezza maglia alta nella maglia mezza maglia alta sottostante per cui andiamo a realizzare una due tre quattro cinque sei sette ops preso dentro sette e la otto mezze maglie alte e andiamo a sovrapporre l'aumento vedete che sono tutti incolonnati per cui due mezze maglie alte nella stessa maglia come vedete ha un pochino fa un pochino la conca perché giustamente la nostra testa è ovale leggermente sopra e tonda ok per cui deve seguire la forma del nostro capo allora finiamo questo giro poi ci rivediamo per proseguire insieme facciamo una misura veloce veloce con il centimetro e poi vediamo quanti giri proseguire ancora ma questa volta senza aumenti terminato il nostro decimo giro andiamo a vedere un pochino le misure allora con il nostro centimetro prendiamo e andiamo a misurare nella parte ecco qui dove ci sono gli aumenti e ci dà all'incirca diciassette centimetri e mezzo di diametro diciassette centimetri e mezzo di diametro dovete moltiplicarlo per tre quattordici ok che è il nostro pi greco e vi arriverà sicuramente una misura intorno ai cinquantacinque cinquantasei centimetri se aveste bisogno ripeto di una misura superiore continuate con un giro barra due di aumenti massimo ok perché altrimenti poi vi verrebbe una cosa abbastanza complessa da dover gestire anche a livello proprio di misure sul vostro capo eventualmente se volete fare la prova del 9 adesso prendiamo la nostra testina io tolgo quello che ho già realizzato ecco qua e con la testa vi faccio vedere più o meno dove arriva all'incirca eccolo qua come vedete sono tre dita dal nostro inizio del naso tre dita abbondanti ok dal nostro dal nostro arco sopraccigliare così facciamo ecco così è più corretto tre dita dall'arco sopraccigliare allora adesso abbiamo detto che proseguiamo per tre giri sempre chiusi con una mezza maglia scusate con una maglia bassissima all'inizio della fine del giro procediamo con tre giri senza aumenti ci vediamo al termine di questo perché avremo così terminato la nostra calotta superiore del nostro balaclava eccola qua questo è l'ultimo giro ed ora dobbiamo proseguire in giri di andata e ritorno perché dobbiamo ovviamente saltare la parte che corrisponde all'oblò del nostro balaclava per cui ci vediamo tra un po' terminati i nostri tre giri senza aumenti ora dobbiamo stabilire quante maglie ovviamente dobbiamo non lavorare per formare l'oblò per cui prendiamo il nostro cappellino chiamiamolo così lo pieghiamo per bene in due come vedete appiattiamo bene tiriamo sempre bene l'asola ok ora centimetro alla mano scusate ho un attimino sfocato l'immagine e andiamo a calcolare 19 centimetri per cui andate a misurare bene le curve come vedete quelle che si sono formate con gli aumenti allora se prendete un centimetro normale è meglio io ho sotto mano questo nastro e faccio un pochino di fatica però col centimetro sicuramente accarezza un po' di più la lavorazione allora io sono arrivata a 10 centimetri sposto un pochino leggermente vado a 19 mi fermo tengo la misura e vado a mettere un marker sotto nella parte sotto vedete nel nostro lavoro praticamente faccio corrispondere la maglia superiore alla maglia posteriore sottostante scusate e vado a infilare il marker ok questa dal marker alla fine giro sarà la parte che noi non andremo a lavorare ed è quella che corrisponde all'oblò se io metto il lavoro come vi ho fatto vedere precedentemente eccola qua corrisponde scusate non ero sotto la mano sotto la camera corrisponde vedete la parte dell'oblò ora cosa faremo andremo a lavorare sempre a mezze maglie alte dall'inizio del nostro giro fino al nostro marker fino al nostro marker eccolo qua questa sarà la nostra ultima mezza maglia alta dopodiché una volta terminato il nostro lavoro sempre una catenella per voltare e andremo a lavorare in giri di andate e ritorno comunque io adesso faccio il mio giro mi fermo qua insieme a voi e poi vi dico quanti giri ok dobbiamo andare a lavorare per poi riunire nuovamente il nostro lavoro per formare appunto la parte sottostante del nostro bloc per cui andiamo riunire nuovamente le nostre maglie allora ci vediamo tra un po io faccio il giro e poi ci vediamo dopo ci arrivati all'ultima mezza maglia alta stacco il mio marker realizzo la mia ultima mezza maglia alta ora una catenella filo sull'uncinetto e volto al lavoro e vado a realizzare le maglie basse ovviamente una nella maglia sottostante fino alla prima mezza maglia alta d'inizio per cui realizzerò un totale di 11 righe di andata e ritorno sempre a mezza maglia alta ok allora ci vediamo al termine se siete le prime armi date una contata alle maglie della prima riga che abbiamo realizzato e ovviamente nella seconda cercate di tenere uguale il nostro numero di maglie almeno così non avrete problemi poi quando andremo a riunire le parti per cui contate la prima e ogni tanto siate scrupolose e andate sempre a contare le maglie così che siano regolari ok rispetto a quello che avevamo all'inizio va bene ci rivediamo alla fine di questi nostri 11 giri per passare alla terza parte del nostro balaclava ecco come si presenta il nostro lavoro al termine dell'undicesimo giro adesso ve lo metto un attimo sulla testina così forse abbiamo una lettura migliore del nostro lavoro e come vedete ora dobbiamo andare a riunire le due parti a realizzare la parte sotto ed ecco come si presenta facendolo ovviamente aderire bene la parte superiore come vedete c'è la fronte scoperta ovviamente perché poi andremo a rifinire nuovamente questa parte ma adesso ci dobbiamo occupare della riunione dei due pezzi siamo al termine del nostro undicesimo giro e dobbiamo lavorare l'ultima mezza maglia alta nell'ultima maglia in questo caso lavoreremo in maniera un po' differente perché andremo oltre che a lavorare le nostre mezze maglie alte di chiusura lavoreremo insieme anche la nostra catenella di base come faremo filo sull'uncinetto entreremo nell'ultima maglia estrarremo il filo filo sull'uncinetto ma anziché chiudere tutti gli anellini io vado a chiudere solo il primo che sarà come vedete si vede abbastanza bene la catenella quella che servirà per unire le due parti nuovamente filo sull'uncinetto e chiudo la mia mezza maglia alta ora continuiamo perché dobbiamo lavorare altre 9 catenelle per cui per un totale di 10 catenelle che ci serviranno per unire le due parti come faremo per proseguire sempre filo sull'uncinetto e rientreremo nella catenella questa qua questa ok spero si veda bene con l'uncinetto prendiamo la prima parte e la seconda forse così si vede meglio ok infatti non si vede per niente bene la prima e la seconda ok queste questo è il nostro anellino di base di partenza ingettato e sono entrata nelle due formano una v vedete queste maglie la prima sul davanti e la seconda sul retro filo sull'uncinetto estraggo carico nuovamente il filo e faccio lo stesso procedimento di prima per cui una catenella di chiusura rifaccio così è più semplice filo sull'uncinetto rientro nella catenella che abbiamo lavorato prendendo la parte davanti e la parte posteriore vedete formano una sorta di v sul nostro uncinetto carico il filo estraggo filo nuovamente sull'uncinetto chiudo il primo anellino che corrisponde alla catenella vedete filo nuovamente sull'uncinetto e chiudo realizzando la nostra mezza maglia alta sempre filo sull'uncinetto e vado a ripetere l'operazione ok una volta che abbiamo realizzato dieci maglie totali per cui dieci catenelle dieci mezza maglie alte sovrapposte ovviamente ci rivediamo per unire il nostro balaclava il prossimo step che dovremo affrontare sarà quello di unire entrambe le parti della nostra base del balaclava cosa faremo filo sull'uncinetto ascoltate mi sposto un po così si vede meglio entro sempre nella catenella sottostante quella che abbiamo fatto finora estraggo il filo ma non chiudo ok faccio sempre la catenella e rimango con tre asole sull'uncinetto ora vado a lavorare alla base della prima riga del giro ok entro con l'uncinetto sotto come vedete entro qua sotto la maglia estraggo il filo carico e chiudo ed ora vado con una maglia bassissima a chiudere tutto il giro e abbiamo terminato adesso il prossimo step che dovremo andare ad affrontare sarà quello della realizzazione del sotto del nostro balaclava chiuso il nostro balaclava proseguiremo lavorando 13 catenelle una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici e tredici adesso dalla seconda catenella lo metto così così si vede meglio dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare maglie basse una in ogni catenella di base ok prendete la parte sopra un anello solo della nostra catenella andate a lavorare appunto una maglia bassa per ogni catenella fino alla prima adesso pian piano ci arrivo insieme a voi tenete un pochino morbide le prime catenelle di base almeno così non fate troppa fatica ad aprire gli anellini per entrare visto che l'uncinetto è un po' grosso ok ci siamo praticamente dovete avere ovviamente 12 maglie basse ok ed eccoci arrivate alla prima ora come proseguiremo salteremo questa mezza maglia alta e andremo nella successiva a lavorare una maglia bassissima così che ci agganceremo al nostro palacrava ora una catenella voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sempre a maglia bassa ma prendendo la costa posteriore ok e andiamo sempre a realizzare le nostre maglie basse lavorerete tutto sempre in maglia bassa posteriore fino all'ultima maglia adesso io vi faccio vedere questi primi giri dopodiché lavorerete sicuramente in autonomia senza nessun tipo di problema e ci vediamo ovviamente poi alla fine per vedere il risultato finale e ovviamente andare a cucire le due parti del nostro palacrava del bordo finale nell'ultima maglia vado sempre a inserire il mio uncinetto ecco qua sempre una catenella che non sostituisce nessuna maglia ma serve solo ed esclusivamente per alzare il lavoro e continuiamo sempre a maglia bassa in costa retro dalla prima maglia una volta terminate le nostre maglie basse andremo sempre a unire questa parte al nostro palacrava andando a saltare la maglia successiva e agganciarci alla seguente per cui una maglia sì una maglia no andiamo a lavorare il nostro punto bassissimo adesso io vado avanti e ci vediamo poi alla fine per vedere il risultato eccoci arrivati al momento di unire entrambe le parti come faremo semplicemente con un giro a maglia bassissima prendendo entrambi le parti da unire allora io ho sempre lavorato la mia catenella per voltare ora entro nella prima maglia prendendo la parte esterna della maglia bassa come se dovesse andare a lavorare sempre comunque un punto in costa ma vado anche a prendere la prima catenella di base dove ho lavorato il primo giro del nostro bordo e vado semplicemente a realizzare una maglia bassissima rimarrà così una cucitura pulita andrà sempre comunque a riprendere la costa in rilievo perché ovviamente il punto a maglia bassissima rimarrà in rilievo terminerò terminando ovviamente le undici maglie che rimangono da lavorare dopodiché staccheremo il filo e affrancheremo l'ultimo step che ci rimarrà da realizzare sarà appunto il giro a maglia bassissima per guarnire l'oblò del nostro balaclava ci vediamo dopo ed eccoci arrivati all'ultima maglia per cui alla dodicesima maglia ho unito entrambe i nostri lati con una maglia bassissima e ora cosa facciamo visto e considerato che rimarrebbe questo questo leggero buchino antiestetico io vado sotto alla maglia prendo entrambe le nostre vasoline faccio passa ovviamente getto il filo solo uncinetto faccio passare attraverso il primo e la maglia risultante dall'ultima cucitura e chiudo totalmente stacco il filo faccio passare attraverso e poi andremo ovviamente a farlo sparire sul rovescio del nostro lavoro ora dobbiamo andare a realizzare il la rifinitura del nostro blu allora se vi piace così che sia anche leggermente un pochino stretto potete fare semplicemente un giro di maglia bassissima e archiviamo la pratica se invece volete dare un pochino più di morbidezza ed elasticità al vostro blu andremo a fare un giro di maglia bassa dove inizieremo inizieremo proprio qui nella prima maglia adesso facciamo così togliamo questo di mezzo così non ci si confonda ecco vedete la prima asolina perfetto entro in entrambi i lati aggancio il mio filo estraggo lavoro una maglia bassa semplicemente per agganciare il filo rientro e lavoro una maglia bassa scusate teniamo bene il filo nel frattempo faccio sparire anche la codina di avvio e vado a lavorare una maglia bassa nelle catenelle che avevamo realizzato precedentemente per l'unione delle due parti vedete sono molto visibili e non fate sicuramente fatica a lavorarci all'interno allora adesso arriviamo alla fine delle catenelle che abbiamo realizzato precedentemente e dobbiamo ovviamente andare a salire sul lato eccoci qua sul lato del nostro balaclava allora io lavoro ancora una maglia bassa adesso questo lo facciamo sparire tagliamo ecco qua ed eccoci arrivati al lato io vado a lavorare in ogni maglia in ogni mezza maglia che abbiamo realizzato ok questa è la prima entro in entrambi i lati tiro e lavoro la mia maglia bassa questa è la maglia bassa che abbiamo realizzato del giro precedente entro proprio nella parte della chiusura della maglia vedete prendendo le due asoline e lavoro la mia maglia bassa cercate di lavorare un un giro che non tiri troppo perché poi andiamo a stringere un po di più nel giro successivo per cui adesso io proseguo su tutto il lato ci vediamo alla chiusura per poi realizzare un secondo giro siamo arrivati alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa d'inizio è uguale aspettate un attimino che ho preso un filo che non dovevo prendere ancora e niente va così ok perfetto adesso una catenella se volete potete chiudere così senza nessun problema se volete invece chiudere un po di più l'oblò andremo a fare un altro giro di maglia bassa ma questa volta prendendola in costa eccola così andiamo semplicemente a lavorare nell'asola posteriore facciamo semplicemente un giro di maglie basse dopodiché chiuderemo con una maglia bassissima sempre nella prima maglia ora io faccio il giro e poi finiamo insieme questo progetto chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima e stacchiamo il filo e voilà ovviamente ora andremo a fissare con scusate ho preso dentro lo stativo allora andate a chiudere i vostri punti fissandoli sempre prendendo il nostro ago della lana faccio passare così poi rientro nuovamente nell'asola da dietro verso davanti ripasso nuovamente e poi vado a nascondere il tutto dietro fate lo stesso ovviamente fissando il filo della nostra cucitura e ricordandovi di andare anche a passare qualche maglia dentro all'interno del centcom del cerchio magico così fissate anche il filo d'inizio bene ci vediamo alla fine per vedere il risultato e per salutarci ecco il nostro balaclava terminato spero di avervi tenuto compagnia con un progetto interessante anche questa volta vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao a tutti e buon lavoro con i prodotti trasfere da raffaella ciao a tutti e buon lavoro con i prodotti trasfere da raffaella ciao a tutti e buon lavoro con i prodotti trasfere da raffaella ciao a tutti e buon lavoro con i prodotti trasfere da raffaella